video novità ragazzi solo con Pier Giorgio natura e bellezza avete questi video questi tutorial che sono unici oggi vi faccio vedere come possiamo risolvere moltissimi problemi degli insetti più fastidiosi e poi vediamo quali sono con un rimedio spettacoloso naturale con la cenere sul limone ragazzi eccezionale fuori le foglie sotto le foglie dentro la chioma vi farà un effetto repellente e insetticida per tutti gli insetti che aggrediscono le nostre amate piante pensiamo agli afidi alla cocciniglia cotonosa al ragnetto rosso alla farfallina del limone laminatrice perché chiaramente se si troveranno una pianta in questo stato così con tutta questa polvere soffisce difficilmente la attaccheranno preferiscono altre piante però ragazzi siccome la cenere come vi dico alza un po il ph 3 4 trattamenti al massimo perché poi chiaramente quando piove e va sul terreno alza un po il ph del terreno e invece la pianta del limone vuole un terreno subacido un 6 e mezzo un 6 e 2 poi se vi si alza il ph misuratelo e già vi ho detto come si abbassa vi do anche un indizio al volo torba la torba quella lì che si usa per le piante acidofile e per rinvasare le piante acidofile abbassa direttamente il ph del terreno la mescolate un po e avete risolto comunque il problema la cenere più adatta è proprio questa qua quella appena bruciata quando il fuoco si è spento quando non c'è più nulla che scotta prelevate la cenere perché adesso è proprio bianca è appiccicosa e polverosa guardate qua che spettacolo soffice come la neve setacciate tranquillamente rimarranno in superficie tutti i granelli più grandi ed anche la parte del carbone mentre sotto guardate qua che spettacolo è tutta cenere finissima quando avete riempito il vostro contenitore fate in modo che sia sempre ad un livello inferiore di almeno un centimetro rispetto a questa canna qui comunque conterrà circa un litro di cenere avvitiamo il tappo infiliamo la cannula e siamo pronti per andare a fare il trattamento non vi rimane altro che lì in inverno accumulare cenere metterle da parte perché ragazzi come avete visto è un tocca sana è eccezionale quindi ci vediamo la prossima noi un abbraccio a tutti da piergiorgio ciao ragazzi ciao